Oggi il Brera punta il fuoco su... Nome? Francesco. Cognome? Cotica. Chi è il pazzo che ti ha confermato? Presidente Agliotti. Quali sono state secondo te le motivazioni che hanno portato alla tua conferma? È una questione d'affetto. Alla fine gioco da tanti anni al Brera e quindi mi ha confermato per simpatia. Le motivazioni che ti hanno portato a restare al Brera? Perché sono attaccato alla maglia e ci tengo a questa società. E quindi ho deciso di rimanere. Le differenze tra il Brera della scorsa stagione e quello attuale? Eh, che quest'anno siamo, secondo me, un bel gruppo. C'è gente molto più forte. Invece l'anno scorso eravamo in pochi, non ci allenavamo, non c'era un mister. Quindi secondo me siamo molto meglio quest'anno. La squadra che più ti ha impressionato in campionato? La Savorelli. Chi vincerà il campionato? Il Brera. Obiettivo personale per questa stagione? Spero di fare almeno 15 gol. Speriamo. È tutto registrato, eh? Va bene, sì, sì. Mantengo la parola. Gli risultati nel 2010 cambieranno? Secondo me sì. Soprattutto perché devi vincere. Sì, sì. Di sicuro. Un saluto a tutti gli spettatori di Brera Channel e un invito perché vengono a vedere le partite del Brera. Vi aspettiamo numerosi all'Arena nel 2010. Ciao a tutti. Un auguro di Buon Natale. Auguro di Buon Natale. Jingle bells in senegalese. Jingle bells. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.